Chiamatele pure matricole vincenti. Succede proprio così da tre stagioni a questa parte del campionato di eccellenza. Gravina nel 2016, audace Cerignola lo scorso anno, Fassano pochi giorni fa. La storia in buona sostanza continua a ripetersi nel principale campionato dilettantistico pugliese. L'entusiasmo, inutile nasconderlo, è l'ingrediente che molto spesso fa la differenza nel mondo del calcio, a qualsiasi latitudine e in qualsiasi categoria, ed è proprio sulle ali dell'entusiasmo determinato dai precedenti successi che Murgiani, Ofantini e Brindisini, gli ultimi a vincere l'eccellenza di Puglia, hanno allungato le rispettive serie di trionfi. Quest'anno, dunque, è toccato al Fassano del presidente Franco D'Amico, buona la prima parte di stagione disputata dagli uomini di Giuseppe La Terza, addirittura sontuoso invece il girone di ritorno dei Biancazzurri, capaci anche grazie a un mercato invernale superlativo di archiviare in fretta la sconfitta nella finale regionale di Coppa Italia dilettanti con la Vigortrani e concentrare tutte le energie sul segmento conclusivo di campionato sino al capolavoro della penultima giornata ottenuto nello scontro diretto in trasferta con la Vetrana. Una spinta alla promozione in serie di del Cerignola nella passata stagione la diede proprio il mercato di riparazione. Un nome su tutti è stato decisivo per gli Ofantini, quel Nicolas di Rito, che permise nella seconda parte di campionato ai gialloblu di Francesco Farina di spuntarla nel duello con il Bitonto. Lo stesso attaccante argentino proprio a Fassano, dopo una prima parte di stagione trascorsa a Corato, ha ulteriormente arricchito quest'anno la personale collezione di promozioni dall'eccellenza alla Serie D. Fu un autentico dominio nella stagione sportiva 2015-2016, quello del Gravina, che da matricola fece il vuoto già nel giro d'andata e poi amministrò il vantaggio dopo il transito al Giro di Boa, vincendo con Gennaro Di Maio in panchina anche la Coppa Italia Pugliese. Gravina, Cerignola e Fassano dunque, tutte accomunate da un'esperienza breve e al tempo stesso vincente in eccellenza. Terlizzi e Brindisi, le matricole del prossimo anno, hanno validi esempi a cui ispirarsi. Gravina, Cerignola e Fassano